Aho, bella, eccoci qua ragazzi siamo tornati con un nuovo video, quest'oggi vi porto un bel 20 kill, bello un cazzo perché non è per niente bello, queste 20 kill non sono belle, fanno cagare perché mi uccide un Gesù Cristo Quindi raga mettete un bel like, seguitemi su Instagram, codici supporto, nezac trattino basso, godetevi la bestemmia finale e buona visione Ragazzi mi sono accorto di una cosa, praticamente c'è un ritardo di audio di 0.2 secondi probabilmente, di pochissimo quindi raga non dà così fastidio ma non so la play me l'ha registrato così, vedete si sente un attimino dopo lo sparo però fa niente raga, quindi godetevi il video e lasciate un bel like lo stesso, bella Se Dio mi supporta potremmo fare una bella partita, non cazzo addirittura Aspettiamolo qua, quando questo scende Ok, ciao Ciao Intanto mi prendo un aero e muoio Non è inutile fare Non è inutile fare tanti grossi Mi prendo un aero e muoio raga Ok, questo è L2 Non me lo spiego Non è inutile fare tanti grossi Nooo che palla Oh no Ok, ok. 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 Ok, ok.